I dischi volanti tornano ogni anno agli onori della cronaca col tornare dell'estate, ma stavolta sono stati catturati e invece che nell'azzurro del cielo, pirouettano nel blu marino della Florida. Le loro ostiti li adoperano con e senza mani. Alcuni astronomi ritengono che i famosi dischi piovano da Marte. Siamo in grado di smentirli. Stavolta è più probabile che piovano da Venere. Ma le dispettose ragazze insegnano che per credere ai dischi bisogna avere grosso.